buonasera a tutti ragazzi buonasera a tutti allora estrazione del 30 marzo sono stanco ho il telefono che mi si sta squagliando come si dice complimenti a tutti quanti avevamo consigliato di giocare ancora la previsione che poi c'erano siete stati siete molto furbi siete molto furbi e molto bravi perché avevamo il 90 e il 4 qualcuno ha capito che erano le due ambate torino venezia al 94 il 90 che avevo dato e il 4 di toni e questa sera 4 e 90 sulla ruota di venezia e il 22 è andato a finire a torino e ve l'abbiamo detto apposta ragazzi continuate continuate questa previsione mi avete massacrato veramente un cellulare centinaia di scontrini non pensavamo perché avevamo dato la nuova previsione col 17 un po di scontrini li ho pubblicati su facebook e adesso mi metterò tranquillamente a metterne ancora un po ma siete veramente in tanti come tanti gli scontrini del 44 e 64 è una piccola vincita è una piccola vincita ci ha pagato un ambo diciamo in cinquina ma insomma tutto fa brodo però va benissimo così però occhio a questa previsione perché se ci fate caso per me non è finita 64 44 4 54 54 44 4 occhio perché secondo me non è finita perciò chi vuole questa previsione può portarla avanti tranquillamente perché secondo me su queste tre ruote vedremo la cadenza 4 alla grande e poi ovviamente noi dobbiamo ancora aspettare questo doppio 34 eccolo qua che vedete oggi non è uscito e perciò io vi consiglio di portare avanti questa previsione allora ovviamente la previsione che abbiamo regalato a tutti milano napoli con toni morizio 17 adesso io devo ancora finirla di compilare ma toni nel suo canale vi ha già fatto vedere la previsione mi raccomando buona la prima come ho scritto su facebook adesso aspettiamo la seconda allora ragazzi il mensile in parte è pronto janto lo dovrebbe sistemare il pdf in serata o massimo domani e c'è già la prima previsione mentre la super previsione la super quaterna verrà postata dopo l'estrazione del primo aprile perciò fate ancora in tempo a prendere la il mensile di aprile del capitano avete tempo fino alla prima estrazione domani invieremo già chi ha preso la presa il mensile invieremo già la prima previsione da giocare col 10 lotto serale e il super analotto detto ciò gruppo abbonati ovviamente abbiamo questa quarto colpo di gioco non si abbandona e poi stasera vi ho messo la super previsione nel gruppo abbonati la super previsione della te di una delle tecniche inedite occhio a quella previsione che vi ho postato proprio pochi minuti fa sul gruppo abbonati occhio puntate vi dico solo puntate qualcosina di più sul terno così non non voglio aggiungere altro ma la statistica alla mano di questa tecnica vi dico solo puntate qualcosina di più sul terno e con questo ho detto tutto chi si vuole abbonare ragazzi fate in tempo domani partiremo con la prima estrazione di aprile chi si vuole abbonare al nostro gruppo 320 67 81 428 ovviamente chi si abbona il mese di aprile riceverà anche il nostro mensile del capitano grazie a tutti ragazzi grazie a tutti per la fiducia ripeto qualcuno ci dà sempre per morti però chissà come mai risuscitiamo sempre 4 e 90 regalato a tutti 44 64 insomma quello che regaliamo esce il nostro gruppo abbonati nel mese di marzo ha fatto veramente sfracelli continuiamo così non siamo i numeri 1 ma siamo semplicemente il vertibile del numero 1 ovvero siamo i numeri 10 dal capitano è tutto ci vediamo domani per il prossimo video ciao